e quindi Bonetti ha subito tutto il salto verso Rizzo che tiene bene Mattela per la pipe di Veres ben coperto dai Pandis Tiberti spinge tantissimo la palla su Botin ma non riesce il russo a evitare però il muro di Benze Patriarca muscolamente scomodo e quindi primo match ball per Milano che si giocherà a Valsecchi è il pubblico che si sente la curva tutta in piedi Semi Bonetti Tiberti che passa giustamente da Padura Diaz come era facile aspettarsi una palla molto difficile è un bravo l'opposto di Monza a conquistarsi comunque il punto quindi primo match ball annullato ma sono ancora tre a disposizione Goetze in battuta l'ace di Goetze su Peter Veres il bulgolo a servizio Veres in palleggio Mattela per il primo tempo per il Patriarca coperto in qualche modo Tiberti sicuramente da Padura Diaz e così è e il punto ancora di Padura Diaz inarrestabile in questo quarto parziale annullato anche il secondo match ball e il secondo time out chiamato da Maranesi Ancora verso Veres Patriarca per Vinicius è incredibile terzo match ball annullato da Padura Diaz questa volta con un muro Depandis ancora verso Padura Diaz che tira forte la balla ancora però nel campo di Milano Tiberti sempre da Padura Diaz inarrestabile l'opposto cubano per Boutin Tiberti dovrà sicuramente da Padura Diaz e ancora l'ennesimo punto di Padura Diaz che ora arriva anche in prima linea verso Veres palle in posto 4 per Benz palle vicinissima e ribalta i giochi Padura Diaz e quindi set ball per Monza su questo muro dopo questo muro su Milan Benz match ball Bonetti però posta cata Tiberti tiene lì il gioco non apre verso Padura Diaz e non c'è bisogno perché praticamente palle in cassaforte ma c'è le pandes Tiberti posto 1 l'errore l'errore c'è l'errore no ancora il tocco il muro confermato anche dalle mani di dal pollice in pin su di Giordano Matra che si contandistingue sempre per la sua correttezza e quindi calma subito spegne subito le discussioni della panchina al al signor arbitro a mettendo il tocco quindi set ball per Monza ancora Veres e l'errore l'errore di Veres incredibile però possiamo assolutamente dire che set meritato da parte di Monza che annulla una serie infinita di match ball per Milano grazie 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 grazie